E' vinta anche questa, che insomma fa forte, dai Cocco facciamo così dai, decidiamo delle regole per definire quella che è la nostra relazione, amicizia, cosa? Come ti voglio insegnare? Con inquilinità. Bravo, bravo. Tipo, a che ora ti svegli la mattina? Mi sveglio alle 6 la mattina. Alle 6 la mattina? Ma ti sei matto? No, dovrei svegliarmi alle 7 e mezza, però mi sveglio alle 6 perché ho la sveglietta rotta. Cioè, il mio punto è alle 7 e mezza, ma i granaggi rotti sono alle 6 tutte le mattine. E se è un dramma, ti dico la verità perché a me che all'oretta è mezza mi faria comodo dormire, E se è tutto stufo dopo, cioè, che l'ora e mezza la, come di me cava l'energia della giornata. Credimi che anni, 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 anni che ho questa sveglietta qua. Anni, anni, anni che non dormo un'ora e mezza, che mi faccio comodo dormire un'ora e mezza in più. Ora che mi sono tutto rincojonino, dopo durante il giorno, oh, credimi che l'ora e mezza è la. E mi cava l'energia, credimi che è tutto rincojonino. Io ti credo, ti credo anche a Cobra, ti crede, guarda, ti credemmo tutti, eh sì. Comunque vabbè dai, stasettimana ti tocca a te il bagno, no? Stasettimana e le prossime 3 del mese. D'accordo? Il bagno? Il bagno. Poi ti ricordi, bagno e cucina. Bagno e cucina? E? Bagno, cucina e spesa ovviamente. Bagno, cucina e spesa. Stasettimana e le prossime 3 del mese? Per tutti i mesi? Fiamo un mese, sì, un mese anche. Ok. Se siete d'accordo, eh? Basta il sabello, basta il sabello, basta il sabello. Basta il sabello. Bagno. Poi per il resto stasera ti cucini e poi se guardiamo una partita. A che ora si è a partita? Ai 9. Mi sei letto ai 9 a sera. Perché? Allora svegliamo se è mia mattina, ai 9. Dopo se tu ti ricordi, credimi che dopo durante il giorno... Te credo, te credo! Adesso ho ho detto att bite questioner. Vedo come questa cosa robravo che dopo anni la lotta. Del altro anche il giorno a facciamo parte a qui da fanno più arrabارciare. No ci sono piùずata. Perchè? 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 Perchè. Perchè? Detichere conseguir notano alcune dejare fictione mappare o diک sp�� di iPom Hana per Εiesonale. Perchè? Grazie a tutti.